Vorrei far vedere queste cose qui, che voi dite che cos'è? Perché la cioccolata? Avete bisogno subito di energia? L'avessi portata tu di tua iniziativa per fare un bel gesto. No, e invece ce l'ha portata, ma come regalo, eh? Qui non c'è nessun altro tipo di finalità. Chiara Bonati del Paccia Mama. Chiara, buongiorno. Benvenuta nei nostri studi. Grazie. Allora, perché abbiamo chiamato Chiara? Perché ieri è arrivata una notizia di quelle ferali, a mio avviso. Chiara, notizie ce ne sono di tutti i tipi, altre sono sicuramente anche, insomma, più tristi. Anche perché noi di questi tempi siamo abituati a scrivere, aprirà il tal giorno. Poi arriva Natale, no? Questo animo, no? Di anche di solidaristico, che molti si dimenticano per il resto dell'anno. Se la facciamo più lunga, però, l'introduzione andiamo. Qual è la notizia che è arrivata ieri? Che dopo vent'anni di gloriosissima, questa la metto io, attività, quest'anno per la prima volta il mercatino Eco e Solidale, a cui tutti i riminese non solo erano abituati, per fare anche gli acquisti di Natale, diciamo, insomma, che è un periodo importante, non ci sarà. Chiara? Raccontaci. Sì, purtroppo siamo abbastanza tristi. Quest'anno abbiamo dovuto prendere atto che la chiesa di Sant'Agnese, che ci ha ospitato per ben tre anni, grazie alla disponibilità della curia, è stata ridestinata al culto, come forse era giusto che fosse, perché era una bella chiesa in centro. E quindi non abbiamo trovato uno spazio che ospitasse il nostro mercatino. purtroppo dopo vent'anni ci ritroviamo in una situazione in cui dovremo tutti ripiegare nei negozi. questo chiaramente è chiaro che abbiamo due negozi in Centra Rimini e quindi questo consentirà a tutti comunque di trovare i prodotti Eco e Solidale per i regali di Natale, però molti erano abituati al mercatino e tutti ci dicono non avrete le stesse cose, non troveremo tutti i presepi e non troveremo tutti i prodotti di Natale. stiamo ricevendo molte lamentele, tanta solidarietà, però purtroppo il centro sta cambiando, ce ne siamo accorti anche noi, l'amministrazione non ha spazi disponibili per noi e quindi ci siamo dovuti ripiegare, ci siamo interrogati se affittare un terzo negozio per il periodo natalizio, però voi sapete che i margini del commercio Eco sono molto ridotti perché i prezzi sono costruiti in maniera diversa, si favorisce il produttore giustamente perché è la nostra missione e quindi sulla vendita vengono lasciati dei margini molto contratti che non ci consentono comunque degli investimenti così significativi. Sai perché poi dispiace Chiara? È vero che ci sono i negozi, tra l'altro ricordiamo quelli di Rimini, anche ce ne sono altri poi a Riccione, però è anche vero che lì al negozio vengono le persone già molto sensibili rispetto a questo tema, quindi che fanno gli acquisti, che quando devono, non so, fare un regalo, ma anche per sé, insomma, dal caffè al cioccolato allo zucchero. Mentre il mercatino poteva intercettare anche delle persone che magari sono in giro a fare il loro shopping natalizio. Io non so Chiara se tu li hai fatti tutti eventi, forse sì, comunque ne abbiamo passati diversi, insieme ci intrecciavamo perché abbiamo fatto anche tante belle cose dentro, gli spazi proprio del mercato di Natale, quindi è quello, c'era veramente tantissima gente, però io vorrei anche che tu raccontassi un po' la storia, perché c'è stata una genesi particolare, io ricordo anni veramente dove gli spazi, ricordiamolo, oggi c'è il fare in quello spazio lì, quindi chiaramente non è più utilizzabile, però piano terra, piazza Cavour, nel cuore della città questa esperienza, che poteva essere veramente un'esperienza altra, mentre poi si va a fare la solita corsa per gli acquisti degli ultimi giorni. Poi c'è stato anche un cambiamento nel tempo, perché poi anche gli spazi, insomma dopo bisognava essere degli scalatori per venirvi a trovare. Sì, siamo stati prima a Santa Maria di Nives, prima che diventasse la sede della provincia. Eravamo là e siamo stati per qualche anno là e poi abbiamo avuto questa location assolutamente di prestigio in piazza Cavour per tanti anni e quella ci ha consentito non solo di far conoscere il commercio eco la maggior parte dei riminesi, ma anche di fare tanti investimenti come cooperativa, quindi abbiamo potuto assumere dei ragazzi disabili, abbiamo potuto investire nella città, aprendo due negozi, ci siamo interrogati sull'essere più visibili, per chi non conosceva il commercio eco, quindi abbiamo aperto il negozio di via 4 Novembre vicino al Duomo proprio per questo motivo, perché comunque Natale è un momento per intercettare delle persone che devono fare dei regali, vogliono fare dei regali, magari non sanno cosa regalare e possono avere un'alternativa in un prodotto buono, biologico, se si parla di alimentari e anche sostenibile per l'ambiente e per le persone che lo producono. Purtroppo già comunque col passaggio da Piazza Cavour alla chiesa di Sant'Agnese avevamo avuto chiaramente un calo di presenze, perché in Piazza Cavour intercettavamo anche tantissimi turisti, cioè gente che anche da altre città d'Italia che conoscevano già il commercio eco, che conoscevano le botteghe, che ci dicevano wow che iniziativa bella, perché dopo Garabombo a Milano il nostro era il mercatino di Natale più grande d'Italia. E quindi era una soddisfazione anche vedere gente che passava per Rimini e ci veniva a dire wow che bella iniziativa, come siete bravi a Rimini, state facendo una cosa bellissima. infatti su Facebook abbiamo raccolto la solidarietà in questi giorni anche di gente fuori Rimini ma tipo un foyer del teatro Galli? No eh, io la butto lì, lo dico magari agli amministratori che ci sentono, io butto lì delle idee, se penso a Piazza Cavour ad esempio mi viene in mente questo spazio. Perché avete provato con l'amministrazione ma non ci sono stati spazi. No, noi capiamo di non essere una realtà magari turistica attrattiva come altre, perché comunque non abbiamo i mezzi economici, non abbiamo la forza comunicativa magari che hanno altri. però pensiamo di avere un valore sociale che altri non hanno insomma e noi capiamo che in questo momento ad esempio è diventato molto di moda il locale, le produzioni territoriali che sono sacrosante. Noi stessi in negozio ospitiamo tantissimi prodotti locali di economia sociale italiana. Abbiamo i formaggi della madre terra, abbiamo... quindi sposiamo questa cosa. Però crediamo sostanzialmente che non siano superati i problemi del commercio internazionale che dominano ancora bellamente la nostra economia. Quindi noi dal nostro canto non riteniamo superato il commercio equa, anche se io sono invecchiata in questi vent'anni, i mercati sono tutti invecchiati, i volontari sono invecchiati. Siamo diventati più saggi. Siamo diventati più saggi. e non consideriamo superata la tematica, però capiamo che in questo momento ci siano delle altre priorità e noi cercheremo di fare di tutto. I negozi saranno aperti orario continuato, cercheremo di farci trovare ovunque possiamo in qualsiasi orario e quindi... Ma lo possiamo ancora lanciare un appello? Non so, qualcuno che ha uno spazio in centro, che magari è lì sfitto, che non sa che cosa farci... Anche perché non si parla di spazi grandissimi. Cosa vi serve? No, no, noi, guarda, ci basta una vetrina fondamentalmente, nel senso che comunque noi abbiamo bisogno di uno spazio accessibile, che non sia un terzo piano, che non sia con un portone chiuso, perché comunque chi ci cerca ci trova già, cioè chi ci vuole trovare ci trova nei negozi. Noi abbiamo bisogno di uno spazio in cui chi non sa che esistiamo, chi non ci cercava proprio fino in fondo, possa trovarci. Quindi noi lo rilanciamo, è perché no. Però ci sono tante realtà sfitte lungo il centro storico, basta passeggiare, insomma qualche vetrina probabilmente. Ma anche qualche cantiere magari, perché sarebbe bello uno spazio anche pubblico, vabbè io la rilancio lì e lo sappiamo che è difficile, però insomma è vero che manca ancora un mese e chissà che qualcuno ci stia ascoltando. Di solito quando aprivate, in che data? Noi abbiamo sempre aperto i primi di dicembre, quando eravamo in Piazza Cavour intorno all'Otta, eravamo sempre operativi, quindi qualche giorno ancora c'è, se qualcuno risponde dall'appello noi ci immobilitiamo, siamo bravissimi a fare allestimenti espressi negli ultimi giorni. Invece che una vetrina sfitta, vedere insomma le cose belle e colorate del commercio eco e soprattutto cercare anche proprio di sensibilizzare su alcuni temi, che come diceva Chiara, non è che, cioè forse ce ne dimentichiamo, e quindi queste possono essere delle belle occasioni educative anche, non solo qui non stiamo parlando di un negozio che vende solo delle cose anche, ma che fa soprattutto formazione, che fa cultura, che fa sensibilizzazione rispetto ad alcune tematiche. Perché questo forse è il vostro must, no Chiara, anche degli anni, cioè è sempre stato al centro della vostra attività. Quindi lanciamo l'appello, qualcuno dovesse sentire, 337-511-336, noi gli passiamo il numero di Chiara e chissà che ne nasca un amore a prima vista. Grazie, grazie mille. Chiara, intanto insomma forza e coraggio, perché poi la cosa bella è che loro non si arrendono, perché questa è la bellezza del pacciamama, no, ha cambiato tanti volti, ma poi è sempre sempre presente. Grazie mille e intanto buon lavoro. Comunque andate a cercarli via 4 Novembre e via Cairoli, quindi qui a due passi da noi e via 4 Novembre invece è praticamente a fianco. Questo a Rimini, poi ci sono naturalmente. Questo a Rimini, poi a Sant'Arcangelo in via Andracosta e a Riccione nel paese in corso Fratelli Cervi. Grazie mille.